Per discutere della mobilità ordinaria degli agenti di custodia e dell'assegnazione dei nuovi agenti del 166 e 167 corso, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha convocato i sindacati per il 2 settembre. Ne dà notizia il segretario regionale della CISL FNS, Giovanni Villa, che ricorda che la Sardegna, se troverà conferma quanto comunicato dal DAP, avrà un incremento di 276 poliziotti penitenziari che saranno così distribuiti. 159 a Cagliari, 104 a Sassari, 7 a Nuoro, 4 a Mamone e 2 a Iglesias. Naturalmente il tutto con l'assegnazione dei neoagenti di entrambi i corsi. L'amministrazione si muove nella direzione giusta, consapevole che la tipologia di utenza, e parlo di alta sorveglianza e di 41 bis, non può che avere questa attenzione, scrive nella notte il segretario Giovanni Villa. Sicuramente questi numeri saranno incrementati con gli altri corsi che partiranno nel prossimo futuro, ad iniziare da fine anno con il 168esimo corso. Ma la CISL sottolinea che la soddisfazione sarà massima solo quando ci sarà la copertura alla pianta organica nella sua completezza.